ecco i campioni che spettacolo passato tanti il futuro grazie anche un passato ancora non ho fatto niente un passato anche non del tutto passato ma tu ancora sei del vero Ricky il tendine è nuovo il tendine è nuovo ti hanno rimesso nella categoria A 18-34 anni praticamente due anni fa mi è scattato garanzia oggi